Buon pomeriggio a tutti. Prima di entrare nello specifico volevo sottolineare, quanto aveva detto già Romano Benini, un aspetto importante che voglio ulteriormente enfatizzare è il metodo utilizzato per arrivare a questa progettazione. Quindi attraverso un protocollo di intesa, penso che mi rivolgo anche ai colleghi rettori, uno dei primi casi in Italia in cui non ricorriamo a dei bandi ma ci accordiamo. E poi vi ricordate Romano Benini ha parlato di 60 milioni e poi nei singoli progetti non c'è stata una ripartizione a pioggia. Quindi il tavolo di lavoro si è occupato sia di definire le progettazioni ma anche di allocare le risorse nel modo più equo e razionale possibile. A proposito di tavolo, tra i relatori era previsto il professor Compagnone che è il mio delegato alla ricerca che ha fatto parte del tavolo che voglio salutare e ringraziare insieme con tutti gli altri delegati che hanno animato questo tavolo che tra l'altro ha degli incroci legati anche poi ad altre progettazioni. L'altro aspetto è quello di far emergere, ma direi già dalla prima ora di riunione, quali erano le vocazioni delle quattro regioni interessate. E anche su questo penso che sono bastati pochi minuti per indirizzare la progettazione. E devo dire con un accordo anche con gli enti locali, le regioni in particolare, proprio per esaltare queste vocazioni. L'altro aspetto è quello che tutti i colleghi hanno già citato, il collegamento con altre progettazioni, quindi sia a livello nazionale, quindi i bandi per la coesione, in Abruzzo hanno assunto la denominazione master plan. Quindi di fatto anche questa specificità è assolutamente non scontata, solitamente i progetti vanno avanti abbastanza indipendentemente. E veniamo al progetto. Noi in Abruzzo, e in particolare all'interno dell'Università di Termo, abbiamo costituito, come diverse altre università, un polo agroalimentare che fin dall'inizio si è caratterizzato per prendere in considerazione la sperimentazione, la ricerca e la formazione dal post raccolta in poi. Insomma, e quindi anche il centro di ricerca si caratterizza proprio in particolare per questo aspetto. Ovviamente le interconnessioni con le altre università già citate ci sono tutte. Un altro aspetto però importante della progettazione è stata la necessità di collocare quindi le mura e gli impianti all'interno dei territori del cratere. Cioè questo non dimentichiamolo, insomma, anche questo è un aspetto estremamente importante. Le interconnessioni ovviamente si realizzano attraverso poi l'operatività di questi centri, quindi anche attraverso la condivisione dei fondi per quanto riguarda il personale. Agroalimentare, quindi si diceva, concentrazione soprattutto per quanto riguarda le tecnologie post raccolta, la valorizzazione, e la caratterizzazione quindi delle produzioni, la sicurezza alimentare, la qualità e i vari, come dire, elementi all'interno del centro sono stati pensati come una sorta di filiera di raccolta e movimentazione poi dei prodotti agroalimentari. per poi arrivare a due unità sperimentali, quindi lattiero casearia e vitivinicolo e birrificio, proprio per cercare di valorizzare ulteriormente alcuni settori che stanno crescendo notevolmente, non solo nella regione Abruzzo ma anche nelle regioni limitrofe in particolare. L'altro aspetto quindi è ricerca, ricerca anche industriale, trasferimento tecnologico, ma non tralascere l'aspetto del servizio per le aziende, quindi l'idea di impianto pilota, quindi delle piccole linee di produzione che possono essere utilizzate per sperimentazione diretta dalle aziende, quindi senza dover investire quintali di prodotto per poter portare avanti delle sperimentazioni. Quindi questo è un aspetto non indifferente. Tutto ciò si connette direttamente con la scuola di dottorato, sia nel settore della food technology, sia nel settore delle biotecnologie agroalimentari. E quindi, prima giustamente si parlava delle ricadute sociali, ma soprattutto dell'effetto di trascinamento che questi centri dovrebbero avere. Proprio per accentuare l'effetto di trascinamento abbiamo pensato ad una sezione proprio all'interno del centro dedicata alle start-up innovative, ma anche a start-up che in qualche modo possano riportare i giovani non solo nella fase di trasformazione e di valorizzazione del cibo, ma anche nella fase di produzione poi delle materie prime. E penso che la contingenza economica internazionale che stiamo vivendo rende anche e soprattutto in questo settore particolarmente importante un investimento di questo tipo. Quindi ovviamente l'interconnessione poi con i corsi di laurea, come ricordava Stefano, insomma, collocati proprio nella stessa zona, e abbiamo bisogno di aumentare il numero di laureati e penso che questi quattro centri di ricerca insieme con il lavoro quotidiano 24 ore su 24 che facciamo penso che possano andare in quella direzione. siamo ancora il penultimo Paese in Europa come numero di laureati. Speriamo che anche grazie a questi investimenti riusciamo a riguadagnare qualche posizione. Grazie.